eccoci siamo qua a mariano al brembo i due fratelli carsana partono e adesso siamo qui a mariano al brembo frazione di dalmine in provincia di bergamo e adesso andiamo a brembo a brembo di dalmine a prendere il nostro amico snello lo youtuber che adesso non è più youtuber ma er è un ex youtuber snello alias daniele paganelli ecco a tra poco ecco siamo qua al museo del presepio a brembo di dalmine siamo qua a brembo abbiamo abbiamo appreso snello leo youtuber eccolo qua eccolo qua si è ritorno in scena si è ritorno in scena che adesso puoi smettere che un po ragazzo film tutta la serata anche la facciamo 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 sul video della serata dopo no adesso siamo per arrivare a treviolo a treviolo siamo ancora sotto brembo arriviamo a treviolo adesso ecco siamo a treviolo a treviolo fa Grazie a tutti.